I finanzieri del gruppo di Eboli hanno individuato sette apparecchi da intrattenimento, di cui cinque non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, illecitamente installati presso un bar e due circoli recreativi. Gli apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo insieme al denaro frutto delle giocate, rinvenuto nelle slot machine, 1.084 euro. Nei confronti dei responsabili sono state emesse a vario titolo sanzioni amministrative per un totale di 120.000 euro.